buongiorno ragazzi avete visto un po tbs cosa ha tirato fuori il tbs agent light da usare al posto del classico luascript diciamo che al momento è molto simile allo script è solo più bello è un po più veloce ma sicuramente sarà da usare in futuro con le nuove caratteristiche come sempre se vi piacciono questi video tecnici sulle fpv iscrivetevi al canale e mettetevi un like al video andiamo avanti e andiamo a vedere come si installa e come funziona allora innanzitutto apriamo il nostro file zippato del tbs agent light abbiamo tre cartelle in realtà ci interessa solamente tbs agent light c'è due cartelle scusate ma è questa x tbs agent light e un file tbs agent light punto luo dobbiamo fare altro che andare nella memoria della nostra radio che sia sia via usb oppure attaccando direttamente lsd al computer insomma rimuovendo lsd attaccando al computer non cambia niente alla stessa cosa non c'è nessun problema ci andiamo nella cartella script nella cartella tools e copiamo sia il tbs agent light ecco qui sia il file tbs agent light punto lua ecco qui e ora ci spostiamo sulla radio quindi se ci spostiamo sulla radio e usiamo il tasto sys andiamo nella lista di tutti i tools potrebbe darsi che se avete una versione vecchia di open tx la prima pagina non è quella dei tools e dovete andare avanti e dovete andare a cercare ma vabbè è la stessa cosa ok quindi nella lista dei tools ora ci sta tbs agent light eccolo qua ci clicco e parte ora lui mi trova il crossfire perché sto usando un modello con il crossfire acceso altrimenti non lo trova e ciò grossomodo tutte le opzioni che avevo prima è solamente più bello e più veloce quindi perché cambiare e non usare il luascript al momento non c'è un motivo è solamente più bello un pochettino più veloce ma è molto probabile che ora tbs abbandonerà il luascript e quindi tutte le funzioni successive le metterà solamente tramite questo tbs agent light quindi conviene iniziare ad usarlo alla prossima